Muri imbrattati, graffiti, murales, scritte di vario genere, colore e grandezza e anche Trieste cadono nelle mani dei writers. Dallo storico palazzo dell'università ai muri delle abitazioni fino agli insegni delle vie, cartelli stradali, strade, tutte prese di mira da scarabocchi e deturpamenti vari, commessi nel cuore della notte dai gnoti, che spesso rischiano anche pericolose cadute pur di compiere le loro opere d'arte. Costantemente sul piede di guerra le forze dell'ordine per acciuffare i cosiddetti vandali artisti, ma l'impresa si rivela assai ardua e le sanzioni previste, 50 euro a Chimbratta, non sembrano scoraggiare. Dai vicoli del centro alle zone di periferia, scritte e disegni imperversano anche nei luoghi più impensati, ma i tempi potrebbero cambiare. Per bloccare infatti il fenomeno, l'amministrazione comunale prende posizione, intende agire su tre versanti, inaspirare le sanzioni, ma anche tener conto delle aspirazioni dei futuri artisti. Maggior controllo del territorio insieme alle altre forze dell'ordine, l'inasprimento delle sanzioni, direi che vanno assolutamente elevate perché queste sono quasi simboliche, e terzo evidentemente la possibilità di offrire anche degli spazi in cui, se vogliamo, la componente, chiamiamola artistica, dei writers possa magari esercitarsi, dando un contributo anche alla creatività e al talento, e conseguentemente la parte, chiamiamola così, più creativa e più responsabile possa trovare uno spazio dove esprimersi. Un fenomeno, spiega il sindaco, seppur non ancora preoccupante, è comunque in crescita, che vede protagonisti soprattutto minorenni. Io ho dei figli che sono stati minorenni, non sono mai andati a scrivere sui muri, se mi fossero ritornati a casa con una bomboletta e con un agente della polizia locale che li accompagnava gli avrei fatto passare un brutto quarto d'ora. Indignati e stufi i triestini, basta con questi graffiti. Il comune dovrebbe però intervenire in maniera più pesante verso queste storie qui. Il degrado della città riguarda il degrado generale della nostra società. Siamo in declino e continuiamo ad andare. Non credo ci sia un rimedio attraverso le sanzioni. Io vorrei tagliare le mani a tutti quanti che rovinano e lordano i muri, perché veramente è indecoroso.